Sorelle, fratelli, pace a tutti. Siamo insieme, insieme intorno alla parola di Dio. Il Vangelo di Matteo, sì, stiamo leggendo questo, siamo nel capitolo 26, leggeremo stamattina i primi 16 versi, dove ci soffermeremo su un evento particolare, vale a dire l'unzione del capo del Signore fatta da Maria in casa di Simone il Lebroso. Il Signore, nei primi versi, vediamo che stava preparando i Suoi discepoli all'imminente crocifissione e vediamo anche che ormai era stato deliberato che Gesù dovesse essere preso e ucciso, solo che i sommi sacerdoti non volevano che questo avvenisse durante la festa per evitare un tumulto e per evitare quindi di avere problemi con i Romani e allora volevano aspettare, aspettare che la festa finisse in modo da portare a termine il loro piano. Gesù si trova a Betania in casa di Simone il Lebroso e appare improvvisamente una donna, una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di olio profumato, olio profumato che viene versato sul capo del Signore mentre lui si trovava a tavola e i discepoli vedendo questo si indignano e dicono ma perché questo spreco? Quest'olio si poteva vendere e darlo ai poveri, ma Gesù reagisce e risponde in un modo secco e dice ma perché date fastidio, perché date doia a questa donna? Ha fatto un'azione buona verso di me. Cosa voleva dire? Voleva dire che quella donna nel versare l'olio sul suo capo lo stava onorando ed è buono onorare il Signore. Lo stava onorando davanti a tutti perché l'olio versato sul capo era qualcosa che veniva fatto in favore dei sacerdoti, dei re e questa donna in un certo quel modo riconosce in Cristo il sommo sacerdote, riconosce in Cristo il re dei re, il Signore dei Signori e Dio ci dia sempre questa attitudine di saper onorare il Signore, di saperlo onorare al di sopra di ogni cosa, prima di ogni cosa, di saperlo onorare con i nostri beni. Questa donna versò qualcosa di molto prezioso e qui mi tornano in mente le parole di Davide, io non offrirò mai nulla al Signore che non mi sia costato qualcosa. Questa donna non solo diede qualcosa di molto prezioso, ma diede probabilmente la cosa più preziosa che aveva e Dio ci dia grazia di saper offrire il meglio di noi stessi. A Dio non va fatta l'elemosina, non soltanto da un punto di vista finanziario, ma soprattutto da un punto di vista dell'impegno, della dedizione, della consacrazione. Quante volte siamo bravi a dare il tempo che ci resta al Signore? Prima i nostri impegni, prima le cose nostre e poi se resta un po' di tempo, chissà, magari poi, forse, se non sarò stanco, se me la sento, dedicherò qualcosa del mio tempo al Signore, sì, magari andrò al culto, magari mi metterò a leggere un verso della Bibbia, magari ascolterò un cantico. No, al Signore vi ha dato il meglio, la cosa più preziosa che noi abbiamo, il nostro cuore, e questo ha delle implicazioni inevitabilmente, che Dio arriva ad essere il motivo principale della nostra vita. Questa donna fece questo, e il Signore, che onora quelli che le onorano, dichiara una cosa molto bella, e cioè che ovunque sarebbe stato predicato il Vangelo, il Vangelo di Gesù Cristo, quel gesto sarebbe stato ricordato, e infatti noi stamattina stiamo ricordando quel gesto. E pensavo in me stesso che sarebbe bello, buono, auspicabile, che per ognuno di noi ci possono essere dei gesti che hanno un valore eterno, che possono essere ricordati, perché fatti così in modo spontaneo, in modo sincero, senza fare calcoli. Quella donna non lo fece perché aveva bisogno di una grazia. Noi delle volte ragioniamo così, siccome ho bisogno che Dio mi risponda, ora un attimino servirò di più il Signore, cercherò di più il Signore, farò di più la volontà del Signore, poi ricevuta la grazia magari del Signore ce ne dimentichiamo, o ritorniamo al nostro freddo e vuoto formalismo religioso. Questa donna non aveva bisogno di una grazia, lo fece per l'amore, lo fece perché riconobbe in Cristo più di un semplice falegname, più di un semplice profeta, riconobbe in Cristo, il figlio di Dio, il Messia. Il Signore ci aiuti, ci aiuti ad essere proprio come questa donna, una donna che ha dato il meglio senza aspettarsi nulla, in cambio, da parte del Signore. Leggiamo poi nei versi da 14 a 16 che uno dei dodici, che si chiamava Giudice Cariota, andò dai capi sacerdoti e disse loro che cosa siete disposti a darmi se io ve lo consegno. Ed essi fissarono 30 sigli di argento. È l'adempimento di una profezia, l'ennesima dimostrazione che Gesù era il Cristo. Ed è particolare il fatto che Giuda, proprio dopo questo episodio di questa donna che fa questo gesto e delle parole del Signore, decide di vendere il suo Maestro. Lo valuta poco, o meglio, dà agli altri l'opportunità di valutarlo. Sono rimasto toccato da questo e soprattutto ho riflettuto su questo. Che Dio ci dia grazia di non scambiare mai la grazia con niente. Non dobbiamo essere come Esau, che scambiò il privilegio della prima genitura per un piatto di lenticchie. Cos'erano quei 30 cicli? Erano la paga, la paga di un mese, di uno schiavo. E viene venduto proprio come uno schiavo il Signore. Gli viene dato lo stesso valore. Signore, aiutaci a saper apprezzare appieno l'opera, l'opera della redenzione che Tu hai compiuto su quella croce, che non ha prezzo, che non ha valore, che è inestimabile, appunto. È una perla di grande valore. Chi la trova va a vendere tutto quello che ha, pur di poter acquistare il campo dove questa perla si trova. Aiutaci, Signore, a realizzare che veramente quello che hai fatto è qualcosa di straordinario e che per nulla al mondo lo possiamo lasciare, perché non c'è nulla che possa valere la salvezza dell'anima di un uomo, che giova, l'uomo segue l'agno in mondo intero e poi perde l'anima sua. Sì, fratelli, sorelle, vogliamo essere non solo riconoscenti al Signore donando tutto nei stessi, ma vogliamo preservare la nostra salvezza dalle offerte di questo mondo che vorrebbe farci scadere dalla grazia, offrendoci qualche breve ed effimera gioia. Non ne vale la pena. Cristo, la salvezza, sono molto di più. Dio ci benedica in questo nuovo giorno, fratelli. La pace del Signore sia con tutti noi. Grazie a tutti.